partiti allora ecco gli attassati attaccati attenzione abbiamo una caduta si è realizzato lo accogliamo con un applauso al numero 228 Turano l'atleta siciliano ed eccoli ora al passaggio sul reclinio per i primi punti 61, 2, 3, 1 Pistonesi e Tizio Erta e ancora il gruppo allungato l'usine indiana già lanciati per lo sprint dei punti tutti tutti 71, 2, 3, 1 quindi ancora Tizio Erta e riserva ora viene rilanciata l'azione in festa al gruppo e si preparano già per la volata al passaggio del meno 4 2, 1, 1 2, 2, 1 quindi Ricca e Tizio Erba l'atleta dell'outline di Roma 7 e patinaggio e ora in testa al gruppo viene rilanciata l'azione lo sprint per i punti numero 3 si presentano sul reclinio d'arrivo 1, 8, 1 e 121 120 era il passaggio quindi era il 120 è un passaggio precedente eccoli di nuovo ai punti numero 2 2, 2, 1 e 71 di Riccio Erba e Pistonesi fatto una spaccata a Riccio Erba è andato a prendersi questi due punti allungandosi tantissimo con questo fiesto atletico ecco le punti del campionino 2, 1, 1 2, 2, 1 quindi Ricca e Pistonesi che continuano a mettere tutti sul suo tabellino e ora siamo all'arrivo 3, 2, 1 3, 2, 1 e ha lasciato lo sprint con gli ultimi punti è lo sprint con gli ultimi punti è lo sprint con gli ultimi punti 2, 2, 1 2, 1 2, 1, 1 e 71 Grazie a tutti.